E per sostenere il mio carattere Mettete un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per sapere sempre quando escono tutti i miei nuovi video. Oggi andiamo a conoscere dunque il 37esimo codice della logica della logica dal titolo La conoscenza della legge. E non si tratta delle leggi del codice civile né del codice penale, ma bensì della legge universale, quella che regge tutto l'universo e ne permette il perfetto ordine e la perfetta sincronia. La stessa legge che permette la vita. Il codice ci dice dunque così. E questo, cari amici, è il più grande bisogno dell'uomo terrestre, perché questa mancanza è ciò che lo ha fatto precipitare nell'ignoranza più terribile, ignorando il Padre Eterno, che già ci ha detto nel codice 4, conosci la legge, e allora gli uomini conosceranno me. La legge dunque non è estranea a chi la cerca, perché così facendo non dovrà andare in cerca di sapienza lontana. Non è scritto in nessun libro della terra, tanto meno nelle malvagie tavole di Mosè, che contengono la legge del Demiurgo, che vi conduce alla morte. La legge è già nell'uomo, come ha spiegato San Paolo nella lettera 2 ai Corinzi, 3. Essendo manifesto che voi siete la lettera di Cristo emanata da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di carne del cuore. Ed è lì, nel cuore, dove l'uomo ha il suo incontro con l'Eterno, per questo ci è stato detto anche di Lui, perché cerchino Dio, se in qualche modo, sentendo, lo possono trovare, benché non è certo lontano da ciascuno di noi, perché in essa viviamo, ci muoviamo e siamo. E questo è scritto in Atti 17, 27 e 28. Chi è arrivato fin qui nell'applicazione della logica ha già realizzato questo prodigio, ha già capito che la legge non è complessa o satura di figure complicate di dialettica, come lo è la legge del mondo. È semplice, chiaro, potente, in chi ha capito che l'amore non fa male agli altri. Quindi l'adempimento della legge è l'amore, come scritto nella lettera ai Romani 13, 10. Quindi la conoscenza della legge è la verità di Dio prodotta da Lui stesso, quella che risplende agli occhi del cercatore come la perla di grande pregio che Egli finalmente trova dentro di sé. Questo lo condurrà d'ora in poi, nei Suoi passi futuri, verso la perfezione e il compimento di ciò che Egli è nato per essere, perché Egli non è più del mondo, ora cammina in esso e lo conserva. A questo punto del cammino, se l'apprendimento è entrato nella profondità della nostra coscienza, determinando quindi tutte le nostre azioni, si è oltrepassato la soia universale e ora la conoscenza appare chiara ed applicabile. I passi futuri di coloro che arrivano fino a qui sono irreversibili per la loro appartenenza alla luce nella quale essi già vivono, e la luce li perfezionerà man mano lungo il loro percorso. Se la società in cui viviamo ci obbliga a conoscere le sue umane leggi, visto che si dice che la legge non ammette ignoranza, quanto è secondo voi più importante la conoscenza della legge divina che il tutto regge, ordina e vivifica? Conoscere la legge universale, ma soprattutto unificarsi ad essa, è una delle necessità imprescindibili per colui che aspira a vivere la conoscenza vera in armonia, come strumento per raggiungere l'equilibrio che mai più Egli perderà. Non è questo traguardo in differenza del mondo e degli altri, no, assolutamente, anzi, è al contrario una visione diversa sugli eventi, sugli scopi, sulle ragioni di ciò che accade intorno a noi, e la capacità di incanalare il tutto in un canale di luce collegata alla fonte divina. E in tal modo tutto cambia, le scale di valori si invertono, l'amore diviene la lente attraverso la quale tutto è collegato in una unione mirabile, che è la pura energia che sospinge l'umanità lungo il sentiero della propria evoluzione. Raggiungere il distacco dal mondo significa rapportarsi ad esso per trarne esperienza, è un termine di paragone utile a determinare ciò che vale e ciò che non vale. Significa osservare senza perdersi nel desiderio di coinvolgersi totalmente nelle sue chimere, scoprire proprio nella sua vacuità che dietro quella facciata esiste un'armonia infinita, un cammino pensato per ogni uomo e che parte dalla radice del suo cuore, che bisogna imparare ad ascoltare, nel silenzio e nella lontananza dai desideri indotti dai sistemi di questa società. C'è poco da fare, la logica ci chiede se vogliamo entrare in quel tempio della saggezza di abbandonare tutto ciò che il mondo ci ha insegnato come verità, e voi sapete che spesso questo può essere doloroso per un uomo che è ancora agli inizi del suo percorso spirituale. Lo è perché le credenze da lungo tempo accettate e mai messe in dubbio danno comunque un conforto, sono come l'orzacchiotto che da piccoli abbracciavamo per avere la certezza di una presenza, ma proprio come quella presenza era muta, morta e si animava solo con lo sforzo della nostra fantasia, così le credenze sono mute e morte, incapaci di darci un percorso vero verso quella verità e quella conoscenza che ha per tutto una risposta e che non si può controbattere. E sono mute e morte proprio perché non appoggiano su nessuna radice di verità e i dogmi tanto amati dalle religioni sono pilastri di fragile gesso su cui si infrangono i ragionamenti logici di tanti. E secondo perché non ci conducono mai verso il raggiungimento di quell'illuminazione interiore che sola è capace di appagare la nostra seta, i nostri dubbi, le nostre perplessità. Per diventare uomini e donne nuove bisogna superare l'asticella che la società ha posto per difendere se stessa con costruzioni ingannevoli e senza solide fondamenta. Dunque bisogna tante volte avere il coraggio di uscire dal gregge e mai come oggi ciò appare proprio necessario per la sopravvivenza del nostro corpo. E saltare oltre il fosso non riconoscendosi più parte di un mondo che è fine a se stesso e che non ha visioni di eternità e di infinito, che tutto rinchiude nel breve giro di una vita vissuta per mantenere il sistema e di suoi falsi apparati. Questa è la prima azione che definisce la volontà di intraprendere un vero cammino al di sopra dei condizionamenti assurdi e spesso infalciti di ignoranza del mondo intorno. Ma da qui il cammino si fa a volte insidioso, impervio, pieno di ostacoli dovuti alla volontà che coloro che ci stanno intorno hanno di riportarci dentro l'ovile, o meglio nella loro caverna di platonica memoria, dove tutto è illusione e vacuità, fumo che nasconde la vera luce che è appena oltre l'altro oscuro e confuso. Dopo il primo passo però, colui che anela al raggiungimento della verità e alla scoperta di quel Dio infinito dentro di sé, sa bene che non può più tornare indietro perché si è intravista a una realtà ben più grande e magnifica, lo splendore della verità che basterebbe possederne un piccolo pezzetto per essere felici e possedere le risposte necessarie per dare un colore e un sapore diverso alla vita. E così la realtà offerta dalla Matrix quotidiana appare spenta, insensata, i suoi divertimenti per noi che siamo alla ricerca della vera verità sono giochi da bambini. La sua cultura appare un prodotto umano destinato a smentire se stesso col passo del tempo. Rinascere di nuovo, risorgere da se stessi per incamminarsi lungo quel sentiero che passa attraverso la vita eterna della saggezza e della conoscenza, richiede l'abbandono anche dei valori, spesso effimeri, che informano da subito la nostra vita, rendendola superficiale, insapore, spesso vuota di senso. Coloro che sono capaci, che hanno la forza di elevarsi al di sopra delle illusioni per trovare quello spazio intimo in cui è possibile ascoltare la voce interiore che ci ammaestra e ci guida, sono proprio quegli uomini e quelle donne celesti di cui ci parla la logica della logica, coloro che saranno il motore del grande cambiamento che è già alle porte e che vedrà presto la fine di questo sistema, che proprio come la statua di Nabucodonosor di cui vi ho parlato in diversi video, sarà colpita alle sue radici dalla verità, da quella pietra metaforica lanciata da mano non umana, ovvero da questa conoscenza portata da esseri non umani e dal loro continuo lavorio dietro le quinte degli eventi che si svolgono sul palcoscenico di questo mondo. Dio si è nascosto nel nostro cuore perché provassimo nostalgia di lui ed iniziassimo a cercarlo spinti da quella sete che solo l'acqua della verità cristica può spegnere per sempre. Egli si è fatto piccolo, proprio lì quel Dio infinito per sussurrare ad ogni suo figlio parole di giustizia e bontà che spesso soffochiamo interpretando quella voce della coscienza con le regole mendaci di questo mondo. Il mondo possiede quella che sembra essere la verità, come ci dice il codice della logica di oggi, e sappiamo bene che seguendola ci troveremo sempre su una strada morta, che avremo sempre più domande che risposte, più fame e sete di capire e sapere perché in essa leggiamo solo comportamenti e riti senza senso, ripetizioni di schemi che da migliaia di anni a questa parte non ci hanno mai dato soluzioni e benessere, anzi hanno solo contribuito a dividere i popoli ed i popoli in fazioni. Quando comprendiamo chiaramente tutto ciò ci occorre la spinta per abbandonare la nave alla deriva e nuotare verso i lidi sereni di questa saggezza nuova che ci porta alla logica della logica. E lì troveremo già la nostra nuova dimensione del vivere, è lì che intravederemo la nuova terra e i nuovi cieli promessi, è lì che troveremo in noi il maestro che conosce tutte le risposte. Senza distruggere, amici miei, non si può ricostruire. Ed è questa consapevolezza che l'uomo che risorge da se stesso deve mettere nel suo bagaglio di viaggio, prendersi il rischio. Ora comprendete perché all'inizio di questo codice ci viene detto che la legge Dio l'ha messa nel nostro cuore e che essa non è nelle tavole di Mosè che riflettono leggi e regole umane, ma non la vera essenza della legge divina scritta dal Padre nei nostri cuori affinché non andassimo lontano in posti esotici a cercare sapienza e verità che sono già nel nostro DNA, nel nostro cuore, nella nostra appartenenza a Dio come Suoi figli in cammino. È sempre straordinaria la serenità che sgorga da questi codici e da queste conoscenze e dalle riflessioni che esse ci spingono a fare nel nostro cuore e nella nostra mente con la nostra ragione e l'utilizzo della nostra capacità logica. È straordinario perché ascoltando queste parole immediatamente noi ci rapportiamo alla verità del mondo che è nascosta dietro tanta paccottiglia, tanta confusione inutile che non ci porterà mai verso la vera meta. E come questa logica della logica ci sta aiutando in questo cammino nuovo, sconosciuto ma esaltante per tutti noi, così anche i messaggi metafonici ci stanno spingendo verso questa nuova era, verso l'abbandono del vecchio uomo che abita dentro di noi e lo sta facendo con grande amore, pazienza, con grande serenità. E quindi vale la pena tutti i giorni dedicare qualche minuto del nostro tempo per ascoltare i sempre magnifici messaggi metafonici che tutti i giorni io condivido con voi, sempre con entusiasmo, un entusiasmo che non è mai scemato. E quindi andiamo a conoscerli anche oggi. I più attenti fra di voi si saranno già accorti che spessissimo il contenuto dei messaggi metafonici è in linea perfetta con il codice che vi presento in quella giornata. E anche oggi è così, il codice ci ha parlato delle aste che il mondo ci pone, no? Delle asticelle da superare. E loro ce lo confermano, questo è vero. E infatti il primo messaggio questo ci viene a comunicare. E allora Asta la ceda. Ovvero il Signore ha posto delle aste da superare nella nostra vita, non alla società. La società pone delle aste materiali, ma il Signore ci pone delle aste spirituali. E quindi la prova è appunto abbandonare le falsità del mondo per andarlo a cercare sotto tutta la spazzatura che ci viene riversata quotidianamente addosso da questo mondo, dalle sue strutture, dalla sua informazione falsa ed alterata. A noi quindi il compito di saltare questa asta, questa asticella, per andare al di là, per saltare il fosso e cercare di atterrare in uno spazio diverso, in una comprensione diversa della realtà intorno a noi. Quindi è un messaggio che conferma il nocciolo proprio del codice che vi ho presentato oggi. Questa unione tra messaggi metafonici e codici della logica della logica per me è veramente qualcosa di molto importante, qualcosa di straordinario. In questi ultimi tempi tanti di noi si lamentano vedendo intorno a noi persone che paiono addormentate alla realtà, che si rifiutano di prenderne atto, che come bambini chiudono gli occhi per non vedere l'uomo nero. Questa è un'immagine che mi viene in mente quando penso ai miei simili in questo periodo. Persone che come ipnotizzate eseguono ordini che arrivano da fonti delle quali non bisogna avere nessuna fiducia perché hanno già dimostrato la loro satanica qualità. E quindi domando tante volte a loro ma questa gente quando aprirà gli occhi, quando si sveglierà e se questo accadrà come reagiranno, come si sentiranno traditi, abbandonati, avranno rabbia anche verso se stessi, verso gli altri, non lo so. È comunque una domanda che tanti di noi oggi si pongono perché ci pare incredibile che la gente reagisca in questa maniera senza mostrare nessun istinto di sopravvivenza, nessuna regola di precauzione nonostante tutto quello che sta accadendo e che vedono con i propri occhi. E quindi chiedo a loro accadrà mai che questa gente si sveglierà? E loro mi rispondono E sai giù, ma si sveglierà. Mi confermano che sì, si sveglieranno. Quando si va a sbattere contro un muro ci si sveglia per forza, anche se ci si è addormentati alla guida. E non sappiamo che tipo di risveglio sarà per questa gente. Prego che per loro non sia un risveglio troppo amaro e prego veramente che possano accettare le conseguenze delle loro scelte inconsapevoli e poco informate. Poco informate perché come ci insegnavano le nostre nonne la cui saggezza rimane sempre preziosissima non si chiede all'oste se il vino è buono. Lo capite questo? Capite cosa voglio dire? Non si va alla fonte di chi produce certe cose a chiedere se il prodotto è buono, ma si va da persone serie ed indipendenti che ricercano per proprio conto se il prodotto è buono oppure no, perché non hanno interessi economici correlati con quel prodotto. E questo è talmente semplice ed evidente da capire, però tanti addormentati lo hanno dimenticato, non lo hanno fatto, non lo hanno capito, presi dalla paura hanno perso la testa e quindi magari hanno fatto un'azione di cui in futuro un giorno, una volta risvegliati, possono pentirsi. Auguro a loro di no chiaramente, ma tutto sembra andare in questa direzione. E questa bellissima voce femminile che ci ha portato questi straordinari messaggi fino ad ora vuole risottolineare che viene a darci queste informazioni perché sono gli altissimi che mandano queste informazioni attraverso i loro messaggeri, come vi ho detto tante volte e come sempre è accaduto in tutta la storia dell'umanità. Dio non viene a parlare direttamente con noi, ma manda sempre dei messaggeri e quindi il messaggio bellissimo ci dice così. Venia da Altissimita. Gli spiriti più elevati quindi sono qui al lavoro, sono qui per cercare di aiutarci e di riplasmare un pensiero nuovo in tutti noi anche attraverso questi messaggi. Certo però ci ricordano sempre che abbiamo il libero arbitrio, che nonostante il loro aiuto sia qui libero, fruibile da tutti, questo non significa che tutti debbano accettare questo aiuto. Si può sempre scegliere e qui sta il dono che Dio ci ha fatto nel nostro libero arbitrio che determina poi tutti i cammini verso i quali ci incammineremo. E il messaggio molto bello e sul quale riflettere ci dice così. Quindi questa voce ci dice loro hanno già tutto l'aiuto possibile, ci sono già le chiavi per aprire il nuovo mondo, per aprire nuove dimensioni dentro se stessi acquisendo una conoscenza nuova, diversa, anche grazie alla logica della logica. Però devono scegliere, cioè questa voce dice dovete scegliere. Noi le chiavi le abbiamo qui, sono nelle nostre mani, però voi dovete scegliere se prendere quelle chiavi ed aprire le vostre porte oppure restare chiusi dietro una porta che magari non aprirete mai oppure non aprirete in questa vita ma dovrete aprire poi in altre vite. Quindi la libertà di scelta che è un prezioso dono ma anche a volte scomodo dono che Dio ci ha fatto rimane intonsa. Chi non vuole ascoltare non ascolta, chi non vuole fare il cammino giusto non lo faccia, tanto il tempo è eterno e non c'è fretta per nessuno. Però sappiate poi che ogni scelta ha le sue conseguenze che vanno pagate. E ancora ogni tanto vengono a portare parole per controbattere gli scettici, no? I signori scettici che dai loro troni, questi soloni che dai loro troni emettono sentenze inappellabili quando dicono per esempio che queste voci sono finte, che sono radio, che parlano e hanno parlato tanto però cavoli e parlano con me da 13 anni, non hanno mai smesso e rispondono alle nostre domande e ci portano informazioni giuste in italiano parlando su stazioni con lingue completamente incomprensibili per noi, quindi veramente assurdo. Ma insomma non voglio adesso entrare in questa polemica che ho affrontato già tantissime volte dando anche le mie risposte. Quindi per dare una risposta a costoro nel prossimo messaggio loro ci chiedono pensate davvero che le voci fingano, che siano finte? Noi siamo qui in aria, siamo nei vostri cieli e da qui trasmettiamo i nostri messaggi per tutti voi e questo straordinario messaggio di conferma ci dice così. Si voci finge? Stavo lì in aria? Cioè il senso profondo di questa frase è noi siamo qui, siamo venuti per voi, abbiamo lasciato le nostre case, i nostri pianeti, le nostre vite, le nostre meravigliose dimensioni di luce e pensate che siamo venuti qui a stare qui nei vostri cieli in aria per fingere, per portarvi delle bugie? Datevi voi una risposta. E l'annuncio di un prossimo cambiamento della terra mi viene dato con una parola che mi viene detta in dialetto napoletano. Voi sapete che io sono di origine campana per cui molto spesso ogni tanto infilano la parolina dialettale nei miei messaggi e lo hanno fatto anche stavolta. Intanto ve lo faccio ascoltare così vi rendete conto di che cosa intendo. Vieni qui da volà, terra cagna là. Il termine cagna in dialetto napoletano vuol dire cambia e quindi cambiare. L'annuncio che ci fa questa voce che ci darà i prossimi due messaggi anche appartiene poi questa voce a uno spirito molto simpatico, a un'entità molto simpatica che poi ci darà anche il suo nome alla fine vedrete, cosa veramente molto rara. E ci dice appunto vieni qui che ti do questa informazione. La terra cambia adesso, la terra cambierà. Quindi questo annuncio che tante volte ci hanno portato qui viene reiterato, viene confermato, ci viene ancora una volta detto guardate che la terra sta per cambiare, ti do questa informazione e noi aspettiamo questo cambiamento con una gioia immensa nel nostro cuore. E ora nel prossimo messaggio sentirete che questa voce, questo angelo così estroverso, così simpatico si presenta e ci dà proprio il suo nome e infatti dice così. Pacchi vi davo giu cuore. Dice dunque di chiamarsi Pacchi, questo angelo che è venuto a darci gli ultimi messaggi di stamattina. Pacchi che io non saprei come scrivere, se col k, se con la q, la u e la i alla spagnola non saprei. Comunque il suo nome è Pacchi e dice appunto che viene a darci il suo cuore, come fanno tutti loro, con questo amore così semplice, immediato, senza sovrastrutture stupide, senza complicazioni. Così, immediato, amore per tutti noi e noi lo prendiamo sempre con grande meraviglia, gioia ed entusiasmo. E nell'ultimo messaggio che Pacchi ci dà stamattina voglio farvi ascoltare il suo entusiasmo, cioè lui ci viene a dire io sono venuto a parlare con voi perché Gesù mi ha dato il permesso e io ho parlato con Gesù proprio adesso, poco fa Gesù ha parlato con me e lo dice con una meraviglia, con un entusiasmo che veramente ci commuove e lo dice anche poi per rassicurarci che il suo messaggio è genuino ed è stato permesso appunto dal grande capo, da Gesù Cristo. Il messaggio dice così, Gesù parlo oggi con me, si già. Ci viene dunque a confermare che Gesù ha parlato con lui, lui se ne sente orgoglioso, si sente onorato, probabilmente gli ha parlato per dargli il permesso di venire a darci questi simpaticissimi messaggi che ha voluto darci annunciandoci il prossimo cambiamento della terra, dicendoci il suo nome anche e portandoci anche il suo amore. La straordinarietà amici miei ormai è quotidiana, ci siamo abituati a tutto questo, anche se come tante volte vi ho detto non è scontato tutto questo, dobbiamo ricordarcelo, dobbiamo ricordarci che tutto questo è un dono preziosissimo che il cielo fa agli uomini di questo tempo così rinchiusi in questa falsa matrix, da aver bisogno di un aiuto in più per potersi liberare, per potersi ricordare di chi è veramente, da dove viene, qual è la fonte creatrice che gli ha dato vita, gli ha dato coscienza e quindi questo aiuto noi lo accogliamo con un amore immenso, è una gratitudine infinita, almeno io lo faccio. Questo dunque era l'ultimo messaggio per oggi carissimi amici, grazie, grazie a tutti voi, vi invito all'ascolto del prossimo video e vi auguro tanta serenità con tutto il cuore. Ciao a tutti!